ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi siamo tornati qui con mario kart ds startiamo subito 150 cc allora oggi mi scelgo boucher grappe torneo speciale si perchè fungo l'abbiamo fatto fiore l'abbiamo fatto stella l'abbiamo fatto tocca a troppo speciale vai ottima partenza dai veloce bowser veloce ehi ma non mi ha chiesto proprio managgevolezza ma proprio pessima dai fatti valere bowser a io vado l'abbiamo però l'abbiamo scanzato quando va solo e se tutto mi potere sto in merda io ah la giubbiatista so cori ma come fare sta sempre alle calcagne quando sono i g in me ma qui sta di Yoshi Mario 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 dai bowser si primo a partenza e guarda che c'è la roba mia sembra fatta a posto per me far perdere mamma mia ma che merda di gioco a partenza ma che non c'è la roba mia ma 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 guscio blu per moi inutile perché primo posto non l'orecchiappo più come mi serveva qualcosa di utile per quelli avanti a me faccio favore sole al secondo ma da sta piccina bellissimo come se schiaffiata bra terzo poteva andare meglio mi è salito luigi però due punti si possono recuperare la sterra di bowser la sterra di bowser partenza di scritta la sterra di bowser la sterra di bowser da l'anazzo ma stasera su un gombio lunghi in merda dai bouncer dai non colpisci così vabbè quindi la bomba che l'ho mangiata così che se lo stesse errore non 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 ma non è il buco l'impia banale Dai 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 che è quasi fatta Non dover mettere lì il giro come me Non soffia la prima posizione Primo, primo Luigi quarto, bene, godo Quattro punti di montaggio Sei un maledetto però Dai Banana di merda Secondo dai Sono passato Dovrei aver vinto 34-32 Vai così Primo Finito no? O ce ne sono altre Finito vittoria Vittoria del trofeo speciale Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Per non perdere i prossimi video Ciao